Musica Tre frettissimo, su! Ci scaldiamo! Uno, qui, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, avanti, uno, due, tre, quattro, perché non ho i guantini? Non ho i guantini, se non mi metterei su! Otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno! No, da qui, apro e giudo! E otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! E ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno! E lato, lato, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Continuiamo! Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno! Da qui, apro e chiudo! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! E su! E jumping jacks! E su! fa freddo freddo, entra l'aria nel golfinho non parlo neanche, talmente tanto fa freddo sub jumps, continuiamo con le braccia quanto ci metterò per scaldarmi? 45 minuti ci siamo quasi ok, prendiamo, scendiamo, prendiamo o il peso o la nostra kettlebell scegliamo il peso voluto e facciamo così squat a fondo squat a fondo squat a fondo squat a fondo qui, lì e giù qui e qui qui e a fondo a fondo ecco qui si sente il bruciore e ci si scalda solo per la gambetta che fa male qua a fondo e a fondo giù a fondo e giù a fondo a fondo a fondo a fondo a fondo qui giù qui a fondo qui giù giù mi è un trappo e qui meno male chiaramente tutto dipende dal peso che mettete sulla kettlebell su skip faccio finta di corricchiare e ora piedi riuniti o due qui so come va bene comincia a circolare sangue nelle mani qui comincia a non scaldarsi anche le dito e scendiamo e scendiamo ora facciamo un row single leg no un sacco single leg con un row scendo row qui e un sacco e un sacco e Ancora due va Ci abbiamo messo un attimo Cambio E vado Su E Rò Su Qui E Su Qui Su E Qui Su Ancora uno E Si intorna Qui Jumping jazz Ma a single leg E con un solo braccio Va Qui Single leg Anche qui Lavora solo La gamba Che sta ferma Cioè Anche l'altra Ma di più Chiaramente Quella che non si muove Perché è qui Che c'è tutto il peso Cambio Qui E Continuo qui non ho la campanella forza e scendiamo giù riprendiamo la nostra kettlebell allora scendo salgo scendo salgo scendo salgo scendo salgo 1 qui scendo qui 2 qui scendo qui 3 qui scendo qui 4 qui scendo qui 5 su scendo 6 su scendo qui 7 su scendo qui 8 su scendo stop ora da qui potete prendere anche del peso in più se volete la nostra scusi l'ho tolto semplice semplice scendo e su scendo su 2 3 4 5 6 7 7 giugniamo 1 8 vai 8 2 3 4 4 5 6 7 l'ultimo 8 appoggiamo la nostra kettlebell su su e giù su e giù bene si ritorna qua come va? benissimo alterniamo bicipiti e saltelli 1 2 3 4 5 6 8 e ancora 7 6 5 4 3 5 6 6 6 6 7 8 e ancora 8 7 6 5 4 3 2 1 in alto aspettate ricordino 8 2 3 4 5 6 6 7 8 e ancora 8 7 6 5 4 3 2 1 continuo a saltellare come va? ci siamo scaldate continuo a saltellare qua non mi fermo su le ginocchia alte 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 ok e scegliamo allora peso spesante perché devi sbilanciare un po' se no non è bello rimaniamo su una gamba ci pieghiamo e dondoliamo dai forza 1 2 3 4 e poi quando quando esagerate appoggiate il piede non si può appoggiare il piede bisogna bisogna esagerare perché è un gioco per l'equilibrio e chiaramente più il peso è pesante più ci si scombussola no? e entrano in campo tutti i muscoli del corpo per stabilizzare la posizione in particolar modo sentirete che lavorano gli addominali e gli obliqui voi però andate avanti fissate un punto e andate funziona chiaramente anche con un peso bello pesante quando trovate il vostro il vostro swing funziona bisogna trovarlo lo swing però perché con due piedi è molto facile con uno e il peso pesante non lo è ma fa niente noi siamo qui per fare le cose difficili altrimenti che gusto ci sarebbe 1 2 3 4 5 6 7 giù 1 2 3 4 5 6 doppio 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 tutti interi 8 7 6 5 4 3 2 e 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 6 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 9 10 11 8 9 9 10 11 11 11 12 14 15 15 16 16 16 17 18 18 19 20 22 22 22 23 24 23 24 24 coordinazione altrimenti se tutto fosse facile non sarebbe divertente no? e andiamo poi oltretutto possiamo sempre appoggiare una gambina a terra se le cose non dovessero funzionare oh santo cielo da una parte funziona dall'altra no ok e si ritorna sul trampolino tarantella tarantella come va? benissimo non bene era felicissimo il camillo no no e doppio doppio qui è Grazie a tutti. Ok, ritorniamo giù. Sempre la nostra kettlebell. Da qui, questa volta teniamo una gamba a terra e una leggermente puntata e salvo, salvo, torsione, su, torsione, su. Possiamo anche darci lo sbrancio. Su, e su, 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 su. Su, ginocchio piegato, su, e su, su. Su, sempre per i fianchi, su, su, e... E... Cambiamo. In appoggio, vado. Su, su... Su, su... Qui, su, e... Su, qui, su, su, e... Ginocchio di terra piegato, mi raccomando. Su, 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 e... Su, è soltata una botta sul ginocchio. Su, e... Su, sentite gli obliqui. Va bene. Basta che si senta qualcosa. E... Ciao. Da qui. Prendiamo però il pesone, va? Peso più pesante. Da qui, facciamo swing. Su, 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 e... Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, sei. Due, quattro, tre, due, un... Assecondate il movimento della kettlebell. Su, e... Stop. Se ritorna. Com'è? Tutto bene? Ora, schiaccio, schiaccio, mi passa. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto ancora. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, apro e schiaccio. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, cinque, quattro, tre, due, e stop. Come vanno i glutei? Come vanno i glutei? Male? Respiro. Giù. E ancora. Su. E... Giù. 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 Bene. Continuo a molleggiare solo sulla gamba. E da qui alzo il braccio lateralmente. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e ancora. Un, due, tre, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, piego la gamba, eh. Uno. Cambio parte. Quindi schiaccio e vado. Un, due, tre, quattro, cinque, otto, e ancora. otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Taglio parte. Ora da qui su in alto. Un, due, tre, quattro, cinque, e su. Un, due, tre, quattro, cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio. Un, due, tre, quattro, cinque, quattro, tre, due, uno. Cambio. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Sedici. Un, due, tre, due. 4, 3, 2 e 1, ok, allora continuiamo a schiacciare il nostro trampolino, facciamo O2, salgo, O2, su, O2 e schiaccio, schiaccio, salgo O2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e da qui solo schiaccio, potete anche appoggiare le mani, O2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, 5, 6, 7, 8, ed ora scendiamo, ora iniziamo così, no, scendiamo il peso, non questo, neanche questo, una via di mezzo, allora, da qui, a terra, salgo, scendo, skip, appoggio qui e skip, appoggio, su, e skip, appoggio, su e skip, appoggio, su e skip, appoggio, su e skip, Qui, su, e skip, e skip, sentite il gluteo, o lo sento solo io, qui, altra parte, su, appoggio, su, e skip, su, e skip, appoggio, su, e skip, e su, lasciamo qui la catch ball, ci mettiamo qua, e, sarseliamo, dai dai che bello, sembra così, sembra brutto, ma non lo è, no, non continuate, dovevo staccarne le mani, perché mi finivano i capelli negli occhi, siete attentissime, ok, ritorniamo, questa volta possiamo prendere anche un peso più grande, allora, da qui, dietro, qui, salgo, scelgo, giù, qui, su, e, dietro, qui, su, e, dietro, qui, e, dietro, qui, su, e, dietro, qui. e, dietro, qui. e ritorniamo qua tutto bene? sì resisto attubinali, attubinali forza ok ora ci aspettino ci mettiamo a terra con la nostra cat leggera un po' più leggera chiaramente qui e da qui dietro su dietro qui dietro dietro qui e dietro 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 e dietro schiena a terra schiena a terra ponte con una sola gamba da qui salgo stendo piego stendo piego stendo piego stendo piego su su giù e giù su giù su giù come va cambiamo che cosa fa male male aspettate che tolgo l'orologio perché se no vi do fastidio ok cambio gamba cambio braccio salgo e vado 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 6 5 5 8 7 4 3 2 1 e ancora e dal tempo prendiamo la nostra cat ball la mettiamo qua e da qui salgo e scendo salgo e giù 1 2 e qui 3 proviamo a tenerla così in alto andiamo un po' su si che ce la facciamo dobbiamo solo tenerla giusta e qui chi vuole può continuare come prima d'accordo allora giù vado o 1 2 2 3 4 5 e su la cat ball in alto sforbicio sforbicio 1 2 3 4 5 6 7 8 e ancora 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 ancora qua e qui 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 10 11 12 11 15 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 30 21 22 22 23 bene, ok, qui, rimaniamo seduti sui piedi, allora lui si ferma quando ha voglia e quando non lo indosso, va avanti, ha spinning, appena finisco, non faccio il tempo a finire, che già mi chiede, finito l'allenamento, qui l'ho tolto, manco si è accorto, manco si è accorto, va bene, srotolo la colonna, giro le spalle, qui respiro, giù ancora uno, su, e giù tutto, grazie